Sei il primo finalista e complimenti per questo grande risultato. Raccontaci un po' come è andata la partita, non era facile giocare in questo clima così? Oggi era veramente difficile, la piozza mi ha sparato due volte e penso che ha cominciato la partita giocando normale, ha giocato molto bene ma dopo è migliorato e ha giocato meglio. Domani, qualora dovessi vincere la finale? Potresti avvicinarti al tuo best ranking? Sei il 73, il tuo best ranking è il 54, con questi punti potresti avvicinarlo quindi sarà un motivo in più per provare? Non penso nel ranking, penso nei punti, è importante per me vincere domani perché è una differenza di 50 punti, però si è perso, è il prossimo. L'ultima domanda, anche se è un po' cattivo. Ieri hai visto la partita della Spagna? Difficile, l'Holanda gioca bene, Spagna la prima parte non ha giocato male, dopo la seconda parte penso che è stato horribile. Sono grandi giocatori e penso che contro il Chile ci darà una felicità. Grazie Grazie